Allora, parlando di triangoli, vediamo di fare una piccola classificazione che dovreste avere già presente dall'elementare, però va bene, lo rivediamo un attimino. Dunque, il triangolo è la misura della sua area. Vediamo un po'. I triangoli possono essere classificati secondo due modalità. Voi potete essere classificati, si dividono in due gruppi, maschi dalla parte e femmine dall'altra. Oppure potrei dividere biondi da mori. Questo cosa significa? Che uno all'inizio si trova, ad esempio, con tutti i maschi. Nella seconda classificazione, nella seconda divisione, si trova con un po' di femmine, perché qui ci sono anche delle femmine bionde. Un biondo si trova con delle femmine bionde. Quindi, noi possiamo classificare i triangoli secondo due modalità particolari. La prima modalità è quella, secondo i lati. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo il triangolo equilatero che ha i tre lati tutti uguali. AB congruente ABC, congruente CA. Questo simbolo di uguale con questa ondina sopra significa congruente in geometria. Allora, i tre lati uguali e quindi anche le altezze AK, BL e CH sono uguali. Vi ricordo, attenzione ragazzi, vi ricordo che nel triangolo le altezze, va bene, nel triangolo equilatero sono tutti uguali, quindi non c'è problema. Ma nel triangolo scaleno, che è questo qui, che è un triangolo che ha i tre lati differenti, attenzione perché, vedete, io ho questo triangolo che posso girare alternativamente così e così. È la stessa figura, non cambia assolutamente niente, è lo stesso triangolo, badate bene. Non ho tagliato o aggiunto qualcosa alla stessa area, ma attenzione perché se io lo guardo così, la base è questa e questa è l'altezza. Se io lo guardo in questa maniera, la misura della base è cambiata, è questa e anche la misura dell'altezza è questa, vedete che è cambiata. E se lo giro ancora in questa maniera, in questo caso che cosa ho? Base e altezza. Vedete che praticamente un triangolo possiede tre altezze e tre basi, a seconda di come lo giro, a seconda di qual è il lato che appoggia. Attenzione, una cosa, per determinare l'altezza devo considerare un nomino, il Benedetti, qui sopra, che lancia un cavo con un piombo attaccato, cade sul lato opposto e forma con il lato opposto un angolo di 90 gradi. Ok? In tutti i casi le altezze formano con il lato opposto angoli di 90 gradi. Bene, riassunto un attimo questo aspetto, ripreso un attimo questo aspetto, il triangolo equilatero è questo, tutto tra i lati uguali, vedete che ci sono due sbarrette su ogni lato, poi abbiamo un triangolo isoscele che ha due lati uguali, questo AC e CB sono congruenti e quindi queste due altezze sono congruenti di H e AK. Naturalmente questa altezza relativa alla base non è uguale alle altre due. E poi abbiamo il triangolo scaleno dove i tre lati sono diversi, e questo è il caso che vi facevo vedere. Tre lati differenti e tre altezze differenti. Quindi a seconda dei lati i triangoli possono essere suddivisi tra equilatero, isoscele e scaleno. A seconda degli angoli, cioè rispetto agli angoli, i triangoli possono essere suddivisi in triangolo rettangolo. Che cos'è un triangolo rettangolo? È un triangolo che ha un angolo di 90 gradi. Il lato opposto all'angolo di 90 gradi, in questo caso CB, cioè quello opposto, vedete, che si offone di fronte all'angolo di 90 gradi, quindi CB si chiama ipotenusa ed è il lato più lungo. Gli altri due lati, AB e AC, si chiamano capeti e vengono suddivisi, vengono indicati come C1 e C2, oppure cateto maggiore e cateto minore. AB è il cateto minore e AC è il cateto maggiore. I cateti possono rappresentare le altezze e le basi del triangolo. Possono. Non è detto, non sempre. Guardate, questo è un triangolo rettangolo, vedete? Eccolo qua. Qual è la base? Questa, cioè AB. Qual è l'altezza? L'altezza è proprio questa. Vedete, qui l'umino che sta qui lascia giù un cavo con il piombo che va a formare proprio un angolo di 90 gradi. Essendo questo un angolo di 90 gradi, va proprio qui. Questa è l'altezza. Quindi l'altezza è CA. Se io lo giro in questa maniera, capite che è lo stesso triangolo, è la stessa squadra dell'Alessandra. E abbiamo la base che è diventata questa e questa è l'altezza. Attenzione, non è sempre così. Perché se io lo giro in questa maniera, vedete che questo triangolo, adesso la base è l'ipotenusa. CD. Qui c'è l'angolo di 90 gradi. L'altezza è questo segmento qua. Quello che forma con l'ipotenusa un angolo di 90 gradi. Cioè questa, AH. Attenzione, AH quindi rappresenta nel triangolo rettangolo l'altezza relativa all'ipotenusa. Molto, molto, molto importante l'altezza relativa all'ipotenusa. Poi, cosa abbiamo? Abbiamo il triangolo acutangolo, che è quello che abbiamo visto prima, con gli angoli praticamente tutti acuti, quindi minori di 90 gradi. E poi abbiamo il triangolo ottusangolo. Il triangolo ottusangolo è un triangolo che ha gli angoli, o uno degli angoli ottusi, cioè maggiore di 90 gradi. Attenzione, se voi notate, tutte le altezze di tutti i triangoli si incontrano in un punto, sempre. Questo punto non è detto che sia interno al triangolo, può essere esterno, vedete come nel caso del triangolo ottusangolo. Questo punto si chiama orto-centro. Il punto dove si incrozzano tutte le altezze, ad esempio nel triangolo rettangolo, qui e questo, si chiama orto-centro. Orto-centro. E adesso passiamo alle formule.